Era molto arrabbiata a un certo punto in panchina, sembrava che il Pescara avesse paura di vincere. 1-0 come contro la Carrarese, approccio sbagliato, 2-1 il Gubbio torna giù. Approccio sbagliato, ci sta che nel secondo tempo loro in svantaggio possono cambiare qualcosina e quindi qualche variazione sul tema tattico, sono schierati con due attaccanti centrali e pronti via hanno cominciato a metterci qualche palla lunga, così sono subentrati un paio di calci piazzati qualche punizione laterale in cui abbiamo fatto falle, uno di questi calci tango abbiamo preso il gol poi però abbiamo sempre reagito e siamo cresciuti nell'arco della partita anche se tre partite in sette giorni non è facile farle e quindi ad esempio a un certo punto c'era Pompetti che era stanco, andava cambiato però Pontisso ha chiesto il cambio e quindi abbiamo finito un po' così però complessivamente abbiamo fatto una buona gara vanno gestite meglio, con meno apprezzione alcune situazioni perché poi l'abbiamo fatto, siamo tranquillizzati mettendo il sicuro il risultato lo abbiamo fatto, siamo ritornati a giocare, siamo ritornati a fraseggiare, a smorzare i vittimi e abbiamo creato anche altre situazioni Le chiedo sul spavento finale, quello dove è stato bravissimo Sorrentino che poteva costare il 2-2, chi ha sbagliato la salita? Ma non è una salita, lì eravamo proprio fermi, immobili è un calcio di punizione battuto velocemente che ha sorpreso Beroli, fuori posizione, ma che ha sorpreso anche Drudi tanto è vero che questo si presentava davanti al partiere quindi non è che stavamo salendo, è una situazione di gioco è una conseguenza di una palla ferma in cui abbiamo perso l'attenzione I cambi che ha fatto durante la partita, a me è piaciuto molto quando ha messo Di Ambo dietro Ferrari una sorta di 4-2-3-1 con Di Ambo che è andato a creare problemi al portatore di palla al metodista avversario, poi però con Frascatore e Veroli ha dato un po' un segnale come se avesse paura la squadra per coprirsi? No, assolutamente no, Di Ambo è entrato non è che abbiamo modificato chissà cosa è l'espressione in campo, Rasi non stava facendo una buona partita in quel momento avevamo pareggiato, in quel momento c'era bisogno di mettere un palleggiatore come Jambo un giocatore che può andare a giocare anche fra le linee a supporto degli attaccanti o che può portare prima pressione a credendo malaccarica del loro play basso e questo è quello che è stato fatto poi quando abbiamo cambiato è perché l'Annes era stanco, anche lui è la terza partita dopo sette giorni, l'Annes ha avuto il Covid 10 giorni, 11 giorni non si è allenato adesso ne ha fatti tre in una settimana però complessivamente è una partita che abbiamo anche fatto bene in tanti momenti che abbiamo vinto con merito e ora stacchiamo un paio di giorni perché poi c'è necessità anche di recuperare l'energia e ritorneremo a lavorare Le chiedo l'ultima cosa prima di una domanda da studio lei aveva detto ieri in conferenza voglio un pescare affamato perché non mi erano piaciute alcune situazioni contro la Carrarese queste cose che non le erano piaciute le hanno portato a confermare solo 4 su 11? o era un regolare turnovole? no ma è un turnovole ma guardate il lano è su ingrosso ma anche lo stesso vero è un giocatore più fresco, più giovane non è facile fare tre partite in sette giorni ho scelto di far giocare Drudi ho scelto di far giocare Gerardi perché erano giocatori freschi ho scelto di fare giocare Cancellotti perché erano giocatori freschi Pompetti lo dovevo tenere, ho scelto di fare giocare Pontisso un'alternanza iniziale a Ferrari e Dursi perché Rauti era quello che stava un pochino meglio possibilità a Clemenza e a Cernicoi quindi non è che sono state punizioni non è che nell'ambito delle tre partite ma anche loro hanno cambiato tanto tante squadre cambiano in Serie C le tre partite in sette giorni perché non è facile mantenere quei vittime Auricolare per Auteri che vi ascolta per una domanda da studio Sì, Fabio, Fabio Ferraresi Buonasera Auteri, Fabio Ferraresi Buonasera innanzitutto al di là delle considerazioni sulla partita sul mercato, sui nuovi acquisti che abbiamo già fatto col direttore io volevo fare una domanda su Clemenza ne parlavamo tante volte qua in studio con Massimo secondo lei, dall'alto della sua esperienza è un giocatore che può fare una categoria superiore perché dal mio punto di vista ha delle qualità oltre alla media per questa categoria Lui deve imparare a essere più continuo indubbiamente che è un giocatore che ha qualità deve migliorare il proprio temperamento deve migliorare l'aspetto agonistico che in questa categoria è importante poi lui ha qualità importante certo che può fare un'altra categoria ma deve acquisire continuità